A gennaio di un anno fa una mano crudele ha distrutto con il fuoco il sorriso e l'infanzia del piccolo cocò di appena tre anni scavando nell'animo della città una profonda ferita difficilmente rimarginabile e scoinvolgendo le coscienze di quanti nel paese sono sensibili ai valori della vita e della dignità umana. La città di Cassano non ha dimenticato e ancora aspetta giustizia e verità e quanto scrive l'amministrazione comunale di Cassano in un manifesto murale per ricordare il 19 gennaio dell'anno scorso quando in Contrada Fiego in una Fiat Punto completamente bruciata vennero rinvenuti i corpi del 52enne Giuseppe Iannicelli già conosciuto dalle forze dell'ordine della compagna marocchina di 27 anni e del bambino Nicolas Junior Campolongo di soli tre anni nipote di Giuseppe Iannicelli tutti e tre scomparsi da Cassano la sera del 16 gennaio. La città di Cassano si legge nel manifesto fatto affiggere dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso col trascorrere di un anno confortata dalla venuta di Papa Francesco del 21 giugno ha saputo rielaborare il cupo dolore trasformandolo in sentimento di forza e speranza. Cassano ha avuto la forza di rialzarsi e riprendere un cammino nuovo e alla speranza di poter tutti insieme concorrere a costruire una realtà sociale più giusta, equa, solidale e libera. Una società dove non ci sarà mai posto per la violenza e la sopraffazione.